... Ma che significa? Che significa dispersa, Antonio, col figliato dispersa? Ma che significa? Vuol dire che è viva? Ando, 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 ando che ti senti, ti senti male, ando Oddio, l'orecchio, a dove sta l'orecchio? Allo, ando, 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 ando. Allo, ando. Sei italiano? Tu sei italiano, si vede benissimo dai capelli, dagli occhi, da tutto, ma come ti vergogna e dirmi che sei italiano. Allo, ando, 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 ando. Non so far, will steve! 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 Grazie a tutti.